Sì, buongiorno a tutto il pubblico di Canale Italia del 135 Andremo avanti fino alle 19.30 Eh, che bello Abbiamo iniziato già alle 15.30 Pensate, con il marito, 4 ore di diretta con il marito Attaccata al marito Attaccata così con la sciarpa Perché ha detto che gli dà un po' di colore Ha detto che gli dà un po' di colore No, adesso falla vedere bene anche l'amica di Canale Italia Abbi pazienza questa sciarpa La levo così sei contenta, va bene? Eh, direi, dai Non malare qua Sì, 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 vediamo come sta No Oh, l'ho spettinata L'ho spettinata Volevo farti tipo monaca Eh, perché ci porta buono Ci porta buono la sciarpa Allora, andiamo avanti Intanto lo metto qui L'occasione in sequenza Ti devo dire No, no, non lo fare Cosa ti devo dire? Scusate, eh Ma non è che mi ha detto prima Però è quell'uomo, vero? Ecco me Fa la sua figura Fa la sua figura di Fa la sua figura, vero amore? Vai, vai avanti E ti mettiamo qua Non c'è quella più grossa Non c'è quella più grossa Non c'è quella più grossa? Eh? Eh? Allora, come Eh? Sfuma, sfuma, sfuma Vai, sfuma, sfuma Vai Stanza, l'importante è la salute Sì E poi ti viene la birra Lascia stare Via, ritiriamo Allora Dunque Andiamo a far vedere Dovevo prendere un po' di Quindi con La palla Che sarà proporzionata A quelle lì Erano quelle un po' più piccole O le palle più grosse Esatto Sì, quella diventa un grosso Quando Roberto mi fa Vabbè La palla La vedete? Eh, c'è di nuovo un po' di confusione al centralino Amiche Voi non preoccupatevi Via Se vi risponde la segreteria Che tanto quella risponde? 2 Con 60 punti di brillanti Oro giallo L'unica che è rimasta 45